E' bene a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovissimo video speciale dopo 40 minuti di aggiornamento che è lo stesso giorno a cui ho registrato la sfida, il big bottino di ieri e adesso volevo farvi vedere degli attacchi stratosferici per esempio dopo il one jam boost hanno fatto la manutenzione di 40 minuti quindi si trova risorse di brutto, quindi non posso dirvelo ma vi dovreste affrettare perché stanno facendo un casino di risorse, anche quelli compagni nel mio clan adesso scriviamo salutate youtube e intanto partiamo con il primo attacco da tibas prima che spariscano i 3 replay il mio, questo qua e un altro come potete vedere lui è attaccato con giganti e barce con la regina R barbaro e si è fatto un milione di risorse e io ho fatto di più ragazzi, quindi aspettatevi il mio replay questo qui si è trovato un TH9 un po' malandato, era appena passato di municipio ma neanche tanto passato di municipio, si è affrettato troppo presto si è fatto 500.000 di risorse il mio compagno di clan tibas che saluto perché tanto scriverà nei commenti e mi vedrà nel video niente, qui ha fatto bene ad attaccare con questa tattica perché i giganti aiutano molto e qua niente, vediamo le 3 stelle, se sono 3 stelle, no è il 64% e niente, qui si è fatto, non si è preso, l'ha trovato un 500.000 ma si è preso 348 e 300.000 di nero adesso andiamo a vedere il secondo attacco qua intanto like per facco, trattate di dubbio, like per facco, Elia no, hey la, che Elia lasciate like, facco il meglio attenzione, allora, partiamo subito con il secondo replay che è quello di Dennis che ha fatto il 60% ed ha trovato un 900.000 di risorse 900.000 di risorse che si è ciucciato in pochissimo tempo grazie alla barcia anche lui, vi consiglio la barcia di questo periodo perché si sta facendo un casino di risorse quindi dovete muovervi ad attaccare come porci perché si fanno risorse in maniera assurda sono rimasti soltanto due giorni di gem boost quindi dovete affrettarvi e anche lui qua, Chiara, Dennis, che saluto anche lui che mi ha pronto questo replay ha fatto un casino di risorse, anche lui 400.000 e 300.000 quindi un 700.000 adesso passiamo con il mio replay che ho appena attaccato e ringrazio di cuore Marbis o Mars come cavolo si chiama che è qui su Skype con me che mi ascolta mentre registro e qua vediamo un bel 500.000 d'oro in 494.000 di risorse tutti presi con la barcia e la regina, i re e i noob allora io ho deciso di mettere tre terremoto qua perché volevo provarli, le avevo appena sbloccate ho tentato di sfondare con i barbari all'inizio per ammazzare subito il re barbaro della testa occulta che era qua ho messo una velena giusto per usarla perché tanto il re barbaro ero già morto qua ho incominciato a mettere barbari da tutte le parti la regina dietro così davanti dai mani forti all'attacco e qua io pensavo di non farcela perché c'erano troppe difese però erano, le ho viste solo adesso che erano belle esterne e qua stavo facendo un casino assurdo ero con Marbis in chiamata e stavo esplodendo ce l'ho detto, oh dio se le prendo tutte Marbis mi faccio un murallotto e niente, qua vediamo che la barcia fa il suo sporco lavoro che la regina non viene toccata minimamente qua faccio un milione e diecimila di risorse e niente, io vi ricordo di lasciare 20 mi piace per il prossimo episodio iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate con qualsiasi sfida qualsiasi cosa vorrete vedere nel prossimo video e noi ci brecchiamo ad un prossimo video bella ragazzi e intanto mi chiamano arriva